I Carracci hanno voltato un grande foglio del libro della storia. Le macellerie hanno questa qualità straordinaria di essere state guardate per secoli. È un pittorio che è un pittorio. È un pittorio molto pesante. È nulla per i vegetali. Questo è un pittorio che mi piaceva. È un pittorio che si può rinventare il processo di pittorio. E' un pittorio che si può cominciare in vita. È un pittorio che si può rinventare. È un pittorio che si può rinventare. È un mago. I Carracci e le regole andavano strette specialmente ad Annibale. Di altra pasta era fatto il fratello Agostino, un uomo di cultura. Esattamente l'opposto rispetto al fratello Annibale che non sapeva né leggere né scrivere ma che era nato col pennello in mano. Noi altri dipintori abbiamo da parlare con noi. Caratteri tanto diversi non potevano che scontrarsi. Ma Ludovico intuì che proprio nella loro diversità poteva stare la loro forza. e si arrogavano anche l'idea che la loro non fosse una bottega di artigiani ma che fosse un'accademia. Infatti la chiamarono l'Accademia degli incamminati, ossia di coloro che seguivano una via verso la gloria. La prima cosa che penso è a un gruppo musicale. Ho sempre visto il lavoro dei Carracci come un lavoro fatto di coralità e di relazioni. A qualcuno che chiedeva loro chi avesse fatto cosa all'interno di Palazzo Magnani o di Palazzo Fava loro rispondevano, ella è dei Carracci, l'abbiamo fatta tutti noi. Il nostro corso di Poi Si è rile che tutta la Pintura Francia del XVII e XVIII secolo ha avuto un vero complesso a riguardo a Bologna non essere capabile di dipinti di pizzerare questi grandi decor che sono la gloria di la Pintura Italiana del XVII secolo. E soprattutto che tutti, colti e incolti, possono capire e comprendere. Grazie a tutti.